Lo snoga è con le discipline analogiche il futuro è oro, quindi di conseguenza scopriremo l'oro, perché i sistemi di comunicazione sono lo strumento più importante che abbiamo per poter gestire le interazioni con gli altri, atti ad appagare le nostre esigenze, i nostri obiettivi in qualsiasi campo e soprattutto del benessere con noi stessi, in quanto parliamo di comunicazione intrapsichica dentro di noi e interpersonale verso gli altri, ma parlo di un sistema di comunicazione emotivo, quindi praticamente come stimolare emotivamente il nostro interlocutore sia nella persona con cui entriamo in contatto nella vita sociale e sia anche quelli di conquista di quanto riguarda gli obiettivi, i desideri che abbiamo da poter perseguire nella nostra vita, ma anche il benessere, la salute è molto importante, eviteremo ansia, angoscia, paura, panica, tutto quello che praticamente rappresenta quello che noi chiamiamo blocchi alla realizzazione dei nostri sogni.